Ci prepariamo per la partenza per Palermo. Ha dato forfè all'ultimo minuto Alice che salutiamo, samurai del mare che insieme al fratello doveva partecipare alla messina Palermo e alla fine abbiamo trovato il samurai dell'ultimo secondo, perché Gaetano che è anche un amico dei femminò aveva questo desiderio e ovviamente non c'è stato il tempo materiale di poter organizzare un altro samurai del mare con Suzuki e quindi Gaetano farà con me la tratta sino a Palermo. Gaetano sei pronto? Siamo pronti, sono ben felice di essere a bordo dell'Aretusa, speriamo di poterci rivedere anche successivamente, di poter festeggiare insieme a te questa grande impresa che andrai a realizzare per noi per la nostra felicità che amiamo il mare e che viviamo attraverso il tuo timone, alla tua barra, le nostre emozioni con questo bellissimo mezzo insieme a questi due bellissimi gioielli. Grazie, grazie di cuore. Noi siamo pronti, nel frattempo vi ringraziamo per averci seguito, mi avvicino alla meta finale che è in Marina Renella e avremo poi modo di vederci a Palermo nei prossimi giorni, ci sarà dedicato proprio un giorno particolare per poter vedere il gommone e nel frattempo noi andiamo. Grazie, a presto, ciao. Grazie, a presto.